Questa mattina abbiamo occupato uno dei 5 capanni presenti all'interno dell'allevamento Grimille, chiedendone la chiusura di questo lager che attualmente detiene 2.500 carri di razza Beagle destinati ad essere massacrati, uscionati e infine uccisi nei laboratori di Sottotitoli e anche in Italia. Chiediamo inoltre nuovamente alla regione Lombardia di attivarsi.